Ogni giorno una, ogni giorno una, ma che figura di merda! Ecco, questo è andare ad elemosinare, ad elemosinare, questo è proprio andare ad elemosinare. Io sono contento perché finalmente e tanti hanno capito, tanti hanno capito. Continuate a non abbonarvi, non fare abbonamenti, continuate da zone, niente, continuate a non comprare magliette e gadget come faccio io, non compro più un cazzo, non compro, non compro più niente, cazzo, perché non se lo meritano. Perché vi dico questo? Perché la società Juventus ha mandato a tutti gli abbonati, quelli che andavano allo stadio, quelli delle televisioni, adesso non ho ben capito, mi pare che l'abbonamento allo stadio, perché tanti non lo fanno più, non lo fanno più. Allora hanno mandato una lettera a tutti quanti per sapere la motivazione perché non si riabbonano di nuovo. Oh, veramente, non vi conto, cazzate. La Juventus ha mandato a tutti gli abbonati, quelli di prima, a quelli che non si sono riabbonati, ve lo ripeto, quelli che non si sono abbonati quest'anno, riabbonati, una lettera con scritto che vogliono sapere il perché quest'anno non si abbonano di nuovo. Cioè, ma devi mandare una lettera per sapere il perché non si abbonano di nuovo? Devi mandare una lettera? Ma io non dico che gli youtuber li guardano tutti, ma un minimo, un minimo, avrete capito il perché, ma allo stadio quelli dietro la panchina, non li sentite quando gli gridano schifoso di tutto, vattene via, noi siamo la Juventus, ma non ci sentite. Per quello vi dico che non ci cagano. Non ci cagano. Allora, per farci cagare un po', perché noi, vi ripeto che noi abbiamo il coltello dalla parte del manico, però come in tutte le lote per i diritti, per tutte le cose, per avere dei risultati, bisogna essere uniti, bisogna essere uniti, perché se siamo disuniti non ci ascolta nessuno, non ci ascolta nessuno. Anzi, non gliene frega un cazzo, perché a loro non gliene frega niente del tifoso, a loro interessa solo il business. Avete visto come hanno ridotto lo stadio a un teatro? Hanno fatto prima fuori la curva lì, gli ultras, no? Perché il Nialo, Nialo, lì, come lo chiama il mio amico Demo, perché lui pensava di, no? Ha cominciato prima a fare fuori quello, fare quell'altro, perché lui pensava di essere un Dio. Guarda come hai ridotto la Juventus. Guarda come hai ridotto la Juventus, Agnelli. Guarda come hai ridotto la Juventus. Guardate, io non avrei mai pensato una roba del genere, arrivare a questi livelli. Mai, mai, mai. Non avrei mai pensato. Andare ad elemosinare ai tifosi l'abbonamento, perché questo è un elemosinare, come per dire, torna a abbonarti, per favore, s'innamoriamo di fame. No, no, finquantanto, fino a quando non va via questo cazzone, perché finalmente il 90%, se non di più, l'ha capito che questo è un cazzone, fino a quando non andrà via questo qua, perché la gente è stufa di vedere. Puoi anche non vincere, perché è normale non vincere, ogni tanto, perché non si può vincere sempre, no? Non si può, però neanche vedere questo schifo, ragazzi, no? Neanche vedere questo schifo. Non si può, cioè, io sono stufo di vedere giocatori che vanno via per colpa di questo porco. Perché adesso giocatori, tanti giocatori vanno via, tanti dovrebbero già essere andati via, perché se ci sono ancora è per colpa di questo schifoso, eh? I Bonucci, i Rugani, i Scesni, se ci sono, i Alexandro, se ci sono ancora è per questo schifoso, eh? Però tanti vanno via anche per colpa sua. Io scommetto che Tevez è andato via per colpa sua, dopo quei due anni lì, perché ha detto che sentiva tutto su un colpo e lui ha cominciato a sentire la mancanza dell'Italia con tutti i soldi che prende. A Torino stanno bene tutti, ragazzi, stanno bene tutti. Ronaldo, anche lui stava bene a Torino, stanno bene tutti a Torino. Vanno via perché non lo possono vedere, non lo possono vedere. Tevez, quando è andato via dalla Juventus, che ha detto che voleva ritornare in patria, perché sentiva la mancanza della patria, poi è andato in Cina a prendere un fracco di soldi, è andato in Cina. Quindi non è vero che sentiva la mancanza, è andato via perché gli stava sui coglioni quello là. Gli stava sui coglioni quello là, gli faceva così. Cioè, i giocatori non sono scemi. Non sono scemi. Adesso io devo andare a fare, che a me piange il cuore, vedere chi co chiesa lì e Vlaovic andare via per colpa sua, di lui. Che poi quest'anno gli dovranno rifare quasi tutta la squadra, perché ci sono Quadrado via, Di Maria via, Paredes via, Alexandro via, Bonucci via, si parla anche di Scesni, poi Rabiot via. Chiesa via Vlaovic via, siamo già qui. Pensate che gli devono rifare la squadra, e poi pensate che con i giovani, con una squadra nuova, da ricostruire, questo è capace? Pensate veramente a questo? Questo non ci capisce, è un cazzo adesso. Vi immaginate con la squadra nuova di giovani magari? Di giovani. Vi dico una cosa, segnatevela ragazzi, segnatevela. Se questo rimane, se questo rimane, con la squadra nuova che gli devono fare quest'anno, perché ci sono tanti a fine corsa che devono andare via, tanti a fine contratto, la Juventus lo rinnova perché non meritano, tanti vogliono andare via. Questo con la squadra nuova, con tutto il da fare, e se arriviamo sesti, sesti, sesti dico eh, sesti settimi con questo qua, è anche troppo eh, è anche troppo, scrivetevelo questo eh, scrivetevelo. Adesso passano i ciclisti, i ciclisti, aspetta fermiamo un saltino dai, ecco lì, ragazzi quanto li invido a questi qua che vengono a farsi le ferre, adesso metto che andare dentro con la cucina del cazzo, con quel caldo, quest'anno ragazzi non c'è voglia, tra che ho questo ginocchio ragazzi non riesco a venirne fuori, dovrei stare a casa una settimana no almeno, per vedere se mi va via il male no, e non c'è niente da fare con questo ginocchio ragazzi, sto soffrendo le pene dell'inferno, le pene dell'inferno, comunque a parte le ferre e a parte il mio ginocchio, vedremo, 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 vedremo come andrà a finire sta storia degli abbonamenti, del porco che c'è in panchina, se veramente andrà fuori dal cazzo, perché o ci sono, continuano ad esserci notizie contrastanti, c'è chi lo dà fisso in panchina che non andrà via, e c'è chi dicono che è già via, Tudor, 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 bisogna parlare Conte perché Conte ragazzi, Conte si è andato a cena, ma Conte vuole troppo, 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 la Juventus di questi tempi non può accontentare, adesso mettiamo il caso che venga anche Conte, con una squadra più mezza da rifare, cioè non è che anche quello lì può fare miracoli, sì, magari, dopo incomincerà con le solite puttanate, la squadra giovane, comincerà a rompere i coglioni, è cosa un po' letta che vinca con Iling Junior, lo sappiamo com'è lui, no? Quindi se viene quello là, sì, ti sta buono un mese e due, perché magari Elka non tiene un po' a bacchetta, poi incomincia, 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 perché lui di perdere non ne vuole sapere. E con questa Juventus qua, la prossima, quella della Juventus futura, non vinceremo un cazzo, ve lo dico subito, ve lo dico subito, non vinceremo un cazzo, però almeno voglio vedere giocare a calcio, ragazzi. Giusto? Posso vedere la mia Juventus giocare un po' a calcio? Posso vedere di nuovo divertirmi a vedere la Juventus giocare a calcio? Questo chiedo, non è che chiedo di vedere il gioco di guardiola, un po' di vedere un po' di pressi, un po' di velocità, non sempre i giocatori che guardano dietro invece di guardare davanti. Posso, posso, un po' questo, vedere un po' questo? Questo vi dico, questo volevo dirvi, iscrivetevi sempre al canale, perché è da obbligo dirvi di iscrivervi al canale, perché non costa nulla. Mi fate un piacere, perché mi fate un piacere, così mi farete vincere la scommessa, perché devo vincere una scommessa. Giusto, ragazzi? Fate vincere questa grande scommessa a Michelone. Un bacione a tutti, belli e brutti, e ci vediamo al prossimo.